Nello spogliatoio, nel nostro ambiente, qui a Castelvolturno, non c'è euforia. C'è solo... anche perché euforia vuol dire una tendenza ad essere eccessivamente eccitati, per cui c'è la consapevolezza di fare delle cose importanti, di fare quello... come dicevo prima, che i nostri tifosi si aspettano e tutti stanno dando l'anima, tutti si stanno impegnando al massimo per continuare poi ad avere un comportamento corretto. Io non vedo neanche eccessiva euforia da parte dei napoletani, da parte dei tifosi in città. È chiaro che poi c'è la consapevolezza che stiamo facendo delle cose importanti, però tutti sanno che questo è un gioco poi che bisogna mantenere una lucidità, bisogna continuare a fare dei risultati importanti, perché il campionato è ancora molto lungo e c'è la consapevolezza di un ambiente maturo dove bisogna fare le cose in maniera importante, programmata, in maniera corretta, senza lasciarsi andare a delle cose che poi ti portano sulla strada sbagliata. Grazie. Grazie. Grazie.